ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv quest'oggi andiamo a pronosticare la partita si giocherà domenica alle 15 tra fiorentina e juventus ragazzi due squadre con due avvenzioni completamente diverse la fiorentina cerca di salvarsi e anche se diciamo che dietro sta andando molto a rilento quindi ha buone possibilità di farlo e la juventus che invece sta lottando soprattutto per mantenere un posto in champions league iniziamo subito con il primo spacchettamento come al solito metteremo a sinistra le figurine da fiorentina e a destra quelle della juventus visto che gioca fuori casa scommentate sotto dopo aver lasciato un bel like il vostro pronostico di questo match prima figurina eusebio di francesco ex allenatore del cagliari della roma e della samp oltre del sassuolo intanto troviamo la fiorentina in vantaggio clamoroso fiorentina in vantaggio cesare brandelli c'è qui come figurina che non è neanche più l'allenatore della della fiore poi abbiamo tre giocatori pescara e lo stiamo al torino e laurini del parma quindi fiorentina 1 juventus 0 sarebbe clamoroso sarebbe clamoroso questo risultato andiamo avanti perché non è detto che finisca così il figo pronostico troviamo correa della lazio tre giocatori della sernitana tre giocatori del monza di lorenzo del napoli davido vischi davidoschi del dell'ellas verona quindi siamo ancora sull'1 a 0 per la fiorentina poi troviamo iancto della samp troviamo maran del genoa la supercoppa italiana dominiquez del bologna e le copertine quindi stiamo al terzo pacchetto ancora 1 a 0 per la fiorentina risultato sarebbe veramente clamoroso clamoroso poi abbiamo il crotone pereira della lazio valo valo zuvischi del cagliari lovato dell'ellas e cataldi della lazio abbiamo l'ultima bustina di queste poi dopo si passa alla gommaglia abbiamo scrignar dell'inter pasalic dell'atalanta joao pedro del cagliari belotti del torino e lo stemma dell'empoli ragazzi se gioca tutto in quest'ultima bustina sarebbe veramente risultato clamoroso anche se poi non è detto che finisca così ragazzi anzi sicuramente non finirà così e chi ti troviamo zapata del genoa tre giocatori del brescia etemai del benevento fiorentina caleion 2 a 0 per la fiorentina incredibile lazari della lazio cioè sarebbe veramente un pronostico e troviamo la maglia del torino ragazzi restate collegati però perché adesso andiamo a fare il cielo mi manca di queste figurine abbiamo trovato risultato veramente clamoroso 2 a 0 per la fiorentina fiorentina che ha vinto anche ricordiamolo all'andata allo juventus stadium se finisse così anche il ritorno ragazzi sarebbe la bestia nera di questo campionato per la juventus ma non lo so secondo me ci sono veramente poche possibilità di vedere un risultato del genere però non si sa mai nel pallone anche se questo va preso sempre come un pronostico così giocando ragazzi e non è detto che finisca così allora restate collegate adesso andiamo a fare il cielo mi manca allora la gommaglia del torino mi mancava quindi l'abbiamo inserita fra le nostre gommaglie mancanti intanto devo vedere la 702 se ce l'abbiamo 702 c'è che questa figurina qui e quindi primo doppione di questo ce l'ho mi manca iniziamo con un doppione poi abbiamo la 672 e troviamo la figurina del pescara galano bocic eccetera 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 che ci mancano poi la figurina numero 600 c'è qui abbiamo anche la 631 prima quindi torniamo un attimo indietro 631 vediamo se ci manca la 631 la 631 ce l'abbiamo che è lo stemma dell'empoli qui è cascato tutto 625 525 scusate 525 ci manca che è belotti e 503 anche ci manca che è lo stemma del torino abbiamo la 438 che ce l'abbiamo e la 380 la 380 ci manca del parma e laurini e 354 altra mancante del napoli che è di Lorenzo poi abbiamo la 314 che ce l'abbiamo che correa 312 che ce l'abbiamo e 306 che invece ci manca che è cataldi e anche 305 lazzari ci manca anche questa poi abbiamo la 249 ci manca 249 che è scrignar 227 ce l'abbiamo la 227 che lo ha trovato 223 ci manca 215 altra mancante del genoma questa volta che è maran poi 199 ce l'abbiamo 199 che è zapata 189 ci manca della fiorentina che è brandelli 184 ce l'abbiamo eccolo che è cala 156 ci manca la 156 ci manca che è molina del crotone qua andiamo la 137 qua andiamo la 137 Eusebio di Francesco e ce l'abbiamo 133 ci manca del Cagliari che è gioco petro 119 ci manca ci manca poi abbiamo la 99 la 99 ce l'abbiamo che è dominiquez la 74 ce l'abbiamo e temai la 50 invece va sull'altro l'altra parte bene la 50 ci manca che passa lì c'è sto andando a vedere la 24 ce l'abbiamo la 24 e la numero 4 altra figurina mancante che è la Supercoppa così 1 2 3 4 che sono le prime figurine dell'album l'abbiamo completate ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti